Musica Prima edizione di Ora Tg, il telegiornale di Re TV sul canale 18 del Digitale Terrestre in Sicilia. Ben trovati, apriamo l'edizione odierna con la cronaca. Subito a Catania l'imprenditrice e già assessore comunale catanese, nonché attuale candidato di Fratelli d'Italia alle regionali di domenica prossima, Barbara Mirabella, è stata posta ai domiciliari nell'ambito di una inchiesta per corruzione. Sospesi dalle attività per un anno un imprenditore in campo medico, ma anche l'ex rettore dell'Università di Catania, Francesco Basile, da quale sarebbe partita l'indagine della squadra mobile di Catania, coordinata dalla Procura della Repubblica. L'ex assessore di Catania ai grandi eventi alla pubblica istruzione della Giunta pogliese e candidata alle regionali per Fratelli d'Italia, l'imprenditrice Barbara Mirabella, è finita questa mattina agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della squadra mobile di Catania, coordinata dalla Procura della Repubblica per corruzione, in quanto, secondo l'accusa, attraverso la sua società sarebbe stata destinataria di una somma di 10.000 euro per favorire l'apparato organizzativo di un congresso medico a Catania della Società Italiana di Chirurgia. Destinatari di provvedimento interdittivo, il professore Francesco Basile, già rettore dell'Università di Catania, nonché presidente della SIC e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica del Polo Clinico Rodolico San Marco di Catania. Quindi per l'imprenditore nel campo medico Giovanni Trovato, per entrambi è stata disposta la sospensione dall'attività per un anno. La Procura avrebbe acquisito elementi su Basile, aprendo due filoni d'indagine, e la società New Congress, che ha organizzato l'evento tenutosi a Catania nel settembre del 2021. Secondo l'accusa, i rapporti sarebbero andati oltre l'istituzionale per ottenere l'incondizionato ausilio dello stesso assessore, dunque dall'amministrazione comunale, per le necessità dell'organizzazione del congresso. Gli amministratori del New Congress, a ciò indotti dal Basile, avrebbero accettato di pagare 10.000 euro alla società Expo SRL, di cui è socio l'ex assessore Mirabella, per servizi non necessari all'organizzazione dell'evento, così scrive la Procura. Due filoni d'indagine si diceva perché sarebbero emerse anche condotte conclusive poste in essere dal Basile nei confronti dei rappresentanti di due aziende farmaceutiche per ottenere contributi per il finanziamento del congresso, mediante esplicite minacce della sospensione da parte del Policlinico, in caso contrario degli acquisti dei prodotti di cui le due aziende erano fornitrici. E ancora l'amministratore delegato dell'azienda farmaceutica Medical TSPA Giovanni Trovato avrebbe consegnato un contributo di 5.000 euro per ottenere, grazie all'intervento del Basile, l'incremento dell'acquisto di dispositivi della propria azienda da parte del Policlinico. Basile è accusato di falso corruzione e concussione, trovato di corruzione. Dalle indagini emergerebbe infine come Basile avrebbe consentito a due medici in quescenza di continuare a utilizzare per i propri pazienti gli ambulatori e le sale operatorie del Policlinico, di cui avevano avuto la disponibilità ma fino a quando erano in servizio. Interventi inseriti nel programma operatorio ufficiale, ma eseguiti dai medici in pensione che non comparivano nelle cartelle cliniche, dove invece figurerebbero le firme di medici compiacenti. L'Avvocato dell'ex Assessore Barbara Mirabella, Enrico Trantino, afferma adesso che stiamo completando l'acquisizione degli atti, arrunteremo il ricorso al Tribunale del Riesame contro la misura cautelare che afferma l'Avvocato Trantino. Trantino appare sproporzionata, non mi limito poi a dire altro, se non che constatare la coincidenza che ci troviamo a tre giorni esatti, dalle elezioni, questo l'Avvocato Trantino legale di Barbara Mirabella. Rimaniamo in cronaca ma cambiamo pagina, andiamo a Giarra dove la scorsa notte un bambino di dieci anni in via Aldomoro è stato arrotato, travolto da uno scooter, vedete il luogo in cui si è verificato l'incidente, nottetempo. Lo scooter invece però che fermarsi, secondo alcune testimonianze, avrebbe poi proseguito la marcia alla guida uno giovane che dunque non si è fermato per prestare soccorso ma che quindi sarebbe fuggito. C'erano alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 118, ha condotto prima il ragazzino al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Isidoro, poi trasferito all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania per diverse ferite lacero contuse, fratture ma anche un po' di trauma, non in pericolo di vita, ma le condizioni del ragazzino sono gravi. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Giarra e del nucleo radiomobile che hanno avviato i rilievi del caso, si stanno anche visionando le telecamere che sono posizionate nei pressi del viale Aldomoro per dare un volto e un nome al giovane scuterista che sarebbe appunto, secondo le testimonianze, responsabile di questo sinistro stradale che poi sarebbe fuggito. Dicevamo, fatto accaduto ieri sera in viale Aldomoro a Giarra. Da Giarra, dunque, dalla Catanese andiamo invece nel Palermitano per una operazione della Guardia di Finanza. Nel bagagliaio dell'autovettura sulla quale viaggiava, i finanziari, infatti, hanno scoperto cocaina per 2 milioni e mezzo di euro. Un automobilista è stato fermato. Tutto ciò si deve all'affiuto di un cane della Guardia di Finanza. È stato il affiuto del cane antidroga Mia, che fa parte del gruppo pronto impiego della Guardia di Finanza di Palermo, a mandare in fumo i piani di un corriere della droga che a bordo di un'autovettura stava trasferendo il carico nella zona del Palermitano. L'uomo è stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio. Siamo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, in direzione Palermo. Il conducente ferma l'autovettura nella speranza che si tratti solo di un normale controllo di routine. Patente, documenti, carta di circolazione, la revisione. Ma qui entra in scena anche il cane Mia, che da subito punta quell'autovettura. Il conducente si insospettisce, comincia a diventare nervoso e questo è uno segnale per i finanzieri che decidono di aprire il bagagliaio, dove, abilmente occultati, scopriranno ben 33 panetti di cocaina. Valore sul mercato oltre 2 milioni e mezzo di euro. Il Corriere di Nazionalità Italiana è stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto presso la casa circondaliare Pagliarelli di Palermo. L'operazione, che è stata resa nota oggi, ma che in realtà si è svolta il 14 settembre, ha segnato un nuovo duro colpo contro le organizzazioni malavitose dedite allo spaccio di sostanza stupefacente, in questo caso cocaina, nel Palermitano, nella costa tirenica e quella trapanese. I cannabinieri di Paternò, con il supporto del dodicesimo reggimento di trasportato, hanno eseguito un'attività di controllo nei luoghi della movida di Paternò. Appunto, le operazioni si sono svolte nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, come ad esempio Piazza Santa Barbara e Via delle Rose. Cinque ragazzi paternesi sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di marijuana, sono stati recuperati 49 grammi della stessa sostanza, ben nascosti in un terreno in Contrada, Scalilli. In altri, poi tre esercizi commerciali, i carabinieri sono intervenuti per controlli, facendo rispettare l'orario di chiusura previsto dalle ordinanze sindacali. Sempre i carabinieri, ma stavolta andiamo a Siracusa, i carabinieri di Siracusa e del NAS sono intervenuti in un noto ristorante del capoluogo Aretuseo, chiudendo lo stesso ristorante per scarsa igiene, in quanto sono state riscontrate violazioni in materia di igiene e sanità nelle cucine, così violando il pacchetto igiene a cui bisogna attenersi, di fatto che prevede le regole per come preparare gli alimenti destinati alla successiva somministrazione agli avventori. Al titolare dell'attività commerciale sono state contestate le sanzioni amministrative per un ammontare di circa 4.000 euro. Due scosse di terremoto la scorsa notte nell'area etnea tra Ragalna e Paternò. Si tratta di casi fortunatamente isolati, che non sono stati avvertiti dalla maggior parte dei residenti, episodi legati alla tettonica del territorio, spiegano dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Il primo evento sismico poco prima di mezzanotte, a due chilometri da Ragalna, qui ad una profondità di 2,9 chilometri, la scossa di magnitudo 2,5. Qualche ora dopo, superate le 4 del mattino, nuova energia dal terreno, stavolta però a sud di Paternò, a due chilometri e 400 metri dalla città, dove una magnitudo più alta, seppur sviluppatasi più in profondità, parliamo di 9,6 chilometri, ha fatto saltare dal letto i residenti della zona. Nostra tappa all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, a spiegare quanto accaduto, è la responsabile dell'unità funzionale di sismologia dell'osservatorio etneo Ornella Cocina. Alle 23,51 locali è stato registrato un evento di magnitudo 2,5, localizzato ad una profondità di 2,9 chilometri sotto il livello del mare. Questo è stato localizzato circa due chilometri ad ovest dell'abitato di Ragalna. Diciamo che questo evento rientra in quello che è il quadro geodinamico dell'area in questione, cioè dell'area di Ragalna. Non ci sono notizie di avvertibilità per questo fenomeno? No, in sala operativa non abbiamo ricevuto notizie di avvertibilità. Mentre la situazione è diversa per il fenomeno sismico delle 4,21, sviluppatosi molto distante da Paternò. Sì, alle 4,41 locali è stato registrato questo evento, un evento isolato di magnitudo 3,6, che è stato localizzato a sud dell'abitato di Paternò, ad una profondità di 9,6 chilometri. Quindi l'evento è stato... Allora, in sala operativa non sono arrivate notizie di avvertibilità, comunque abbiamo saputo che nell'abitato, diciamo nel Catanese, ci sono state notizie di avvertibilità. Si tratta di fenomeni legati alla tettonica regionale, non ci spiegava? Sì, sì, diciamo che è questa sismicità che è simile, diciamo, potremmo dire che fa parte dello stesso dominio sismogenetico, non so se diciamo, sto usando un termine complicato, nel quale si sono sviluppati i terremoti di Santa Anastasia, di Motta Santa Anastasia, il più energetico dei quali è avvenuto nel dicembre del 2021 di magnitudo 4,5. Questa è una zona che risente della tettonica regionale, quindi siamo in una zona in cui si sentono gli effetti della compressione Africa-Europa, quindi la sismicità è legata prevalentemente a questo. In quel caso ci fu un vero e proprio sciame, stavolta invece si tratta di fenomeni singoli. Sì, quella volta ci fu uno sciame, con rilasci energetici anche abbastanza importanti, oltre al 4,5, e adesso no. Siamo in presenza di una scossa isolata, non ci sono state altre scosse. La nave di una ONG spagnola Open Arms 1 con 402 migranti a bordo e all'attracco a Messina, alla Molo Nuremberg, dopo appunto che il porto di Messina è stato assegnato come porto sicuro in cui sbarcare queste persone. Dicevamo 402 migranti, 286 uomini, 31 donne, 85 minori. Vi è però a bordo anche un cadavere, sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per capire cosa sia accaduto. Gli migranti arrivano da Sudan, Siria, Eritrea, Egitto, Pakistan, Etiopia, Somalia. Le operazioni di sbarco, come al solito, sono coordinate dalla prefettura di Messina. A bordo 85 minori, dicevamo, di cui solo 5 sono non accompagnati. Nelle immagini vedete una delle fasi di salvataggio della Open Arms che poi ha trasbordato a bordo questi migranti e quindi adesso si trova a Messina. Parliamo adesso di trasporti, parliamo di trasporti e di voli, voli di Ryanair che limita alcune tratte per la Sicilia motivando la limitazione appunto a partire dalla campagna invernale, autunno-invernale a causa degli alti costi energetici. E' uno dei paradossi del tempo che stiamo vivendo. Da una parte i due principali aeroporti siciliani, Catani e Palermo, incassano numeri record superiori. Perfino al 2019 è considerato un anno d'oro per affluenza turistica. Dall'altra la linea superprudente di Ryanair che taglia rotte nazionali e destre e diminuisce le frequenze. Dei voli giornalieri, la principale low cost europea si prepara all'inverno. La decisione dei tagli è di pesa dal caroenergia che farà notevolmente lievitare i costi. A Palermo, rispetto all'inverno scorso, saltano sei destinazioni. Siviglia, Tolosa, Lisbona, Norimberga, Francoforte e Düsseldorf. Di contro si aggiungono Dublino e Forlì. Scendono poi le frequenze giornaliere per Roma. Vengono tagliate quelle del primo mattino, ne restano così 22 alla settimana. Catania invece conquista il volo con Londra, ma sparisce quello per Venezia. La tratta con Malta, una delle internazionali, abitualmente giornaliere anche in bassa stagione, viene ridotta a tre frequenze settimanali. A subire taglia anche l'aeroporto di Trapani e quello di Comiso. La compagnia irlandese qualche giorno fa aveva annunciato l'alzamento dei prezzi con l'addio ai voli a 9,99 euro. Non sono sostenibili in questo periodo con il rincaro del carburante. Così ha motivato l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Liri. Non appena il cherosene costerà di meno, di conseguenza scenderà. Anche la tariffa media, secondo il numero uno di Ryanair, l'estate è stata fantastica. In termini di numeri, l'Italia è cresciuta del 25% rispetto al 2019. Per quanto riguarda la nostra regione, l'ultima relazione al Parlamento dell'autorità dei trasporti ha rivelato che lo scorso anno Catania-Fontana-Rossa è stato il primo aeroporto italiano per voli nazionali con 4,6 milioni di passeggeri, superando di 200 mila viaggiatori Roma-Fiumicino, terzo aeroporto Milano e quarto il Falcone Borsellino di Palermo, dato chiaramente influenzato dalla ripartenza estiva dopo il lockdown. Quest'anno invece le posizioni della Top Ten si sono ristabilite. Fontana-Rossa mantiene un rispettabile e quinto posto a livello nazionale, Palermo e Ottava. I buoni ospici ci sono tutti, non mancano però le preoccupazioni. Catania-Fontana-Rossa punta a diventare un hub del Mediterraneo in concorrenza con lo scalo di Istanbul, almeno secondo quanto prevede il piano. Per far questo ci vogliono un po' di anni e 600 milioni di investimenti. Per lo scalo del capoluogo si profila un investimento di 300 milioni e il matrimonio con Trapani mai realizzato. Intanto però l'autunno è alle porte. L'incertezza di una variante Covid insieme al caroenergia preoccupa le compagnie aeree. Ancora cronaca, denunciato un 48enne catanese pregiudicato dai carabinieri di Catania per furto di uno telefonino ad attivare le indagini dei militari dell'arma di Piazza Dante. La segnalazione di un sacrista che ha raccontato ai militari di avere visto un uomo che durante la celebrazione della funzione religiosa all'interno di una chiesa di Catania si sarebbe appunto intrufolato questa persona nella canonica che avrebbe agguantato il telefonino riuscito poi a far perdere le tracce ma è stato notato, è stato denunciato, quindi segnalato e poi denunciato, rintracciato e denunciato dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante di Catania. Sempre a Catania, oggi sopra il luogo in Piazza Alonso di Benedetto del commissario straordinario del Comune per verificare lo stato dei lavori di recupero e messa in sicurezza della fontana storica e della porta di Carlo V in pescheria di fatto sotto la fontana dell'Amenano. Operai al lavoro questa mattina in Piazza Alonso di Benedetto siamo alla pescheria di Catania alle spalle della fontana dell'Amenano dove è in corso l'intervento di recupero e messa in sicurezza dell'area nello specifico quella della fontana dei Sette Canali e la porta di Carlo V e della sua galleria. Qui sede naturale dello storico mercato cittadino seriamente danneggiato dai fenomeni atmosferici dello scorso anno nello stesso periodo che hanno fatto riversare un vero e proprio fiume in piena di acqua piovana proveniente da Vietnea. Il punto sullo stato dei lavori con il commissario straordinario del Comune Federico Portoghese il costo complessivo di 110.000 euro accumulati grazie alla tassa di soggiorno ma anche attraverso un derby di beneficenza. Una regolificazione dovuta e oltretutto che avviene con un autofinanziamento con la tassa di soggiorno quindi attraverso questa posta che non inciderà sulle casse comunali si possono regolificare tante zone. Questa della pescheria oltretutto zona storica è la prima fontana di Catania che non la conosce quindi è un po' in ritardo devo dire quindi è bello che i catanesi la rivedano io sono catanesa e quindi sono molto contento oggi. Ecco lei punta sempre sulla questione del ritardo effettivamente siamo alle porte di ottobre il rischio di piogge di una certa entità mette un po' in allarme gli amministratori locali. È giusto è giusto perché tutti la conosciamo un problema di Catania e oggi ho dato le disposizioni a mezzogiorno facciamo una riunione sia per l'allerta e anche per il sgombro dei tombini cosa che dovrebbe avvenire sempre in modo continuo. Ecco da una parte la terra dell'Etna che in qualche modo in passato ha otturato i tombini i rifiuti i detriti qual è la situazione attuale su Catania? Io per l'esperienza precedente quando portavo dei lavori lasciavo sempre alla stessa ditta nel capitolato la manutenzione ordinaria così il palazzo con l'università che ha lo stesso problema di tutti ma l'ettra è così quindi ci vuole sempre la manutenzione sia per conservare anche lo strato diciamo culturale dell'ambiente perché poi la terra produce erba e quindi ci vogliono altri costi ma soprattutto perché si rovinano i detti e quello è un problema di manutenzione ordinaria. I lavori dovrebbero concludersi inizi di dicembre di quest'anno si farà in tempo? Questi? Ma così mi dicono guardiamo vediamo però ho detto che qua bisogna fare incitare anche di più perché credo che i servizi non siano adeguati per i turisti soprattutto Nel corso del servizio si parlava di allagamenti dalle alluvioni del recente passato ieri pioggia copiosa nella zona acese con allagamento in via Volano siamo tornati sul posto interviene il sindaco di Acireale Stefano Ali il comune infatti è competente per quella strada alle prime piogge di stagione il laghetto di via Volano ad Acireale come è stato ribattezzato ironicamente dagli acesi si alimenta con allarmante puntualità e nessuno interviene per rimuovere il pericolo per quanti transitano in auto su due ruote in questo tratto viario siamo in corrispondenza del ponte ferroviario e agli allagamenti si aggiungono le vistose profonde buche sul manto stradale vecchie e nuove i recenti lavori di posa della fibra ottica con scavi che hanno interessato via San Pietro Patti via Volano e Santa Maria delle Grazie hanno determinato del manto stradale non effettuato ha causato abballamenti e continui scrostamenti del bitume destinati a peggiorare con le previste piogge autunnali ad ogni allagamento della sede stradale il tragitto viene chiuso al transito con delle transenne che puntualmente vengono rimosse dagli automobilisti che superano non senza difficoltà e rischio per l'accumulo di acqua che nel punto più profondo raggiunge il mezzo metro sono anni che vengono sollecitati interventi di sistemazione messi in sicurezza del tratto interessato dalla vistosa Pozzanghera di Acqua Piovana via Volano l'arteria di collegamento tra Condorata e Reitana nel territorio di Aci Catena le popolose frazioni di Acesi di Aci Platri in Santa Maria delle Grazie e Capovunini nell'intersezione con la statale 114 è particolarmente trafficata e non illuminata nell'aria insistono alcune attività commerciali e in futuro ospiterà il polo artigianale non solo il leghetto alimentato dalle piogge e segnalazioni arrivano anche per lo stato di degrado in cui verse il manto stradale da manutenere con urgenza e adesso andiamo a Giarre dove oggi ha il debutto la nuova location del mercato settimanale una location credita agli ambulanti però proprio le condizioni climatiche avverse oggi ne hanno limitato di fatto il debutto la prima in questa nuova sede vediamo il mercato settimanale di Giarre trova la nuova collocazione stamattina però pochi gli ambulanti che hanno esposto la loro merce a causa delle avverse condizioni meteo lo spazio individuato dall'amministrazione comunale all'angolo tra Corso Messina e Via Giuffrida sembra però soddisfare tutti come confermato dall'assessore alle attività produttive Cavallaro abbiamo questo nuovo sito finalmente dopo diversi mesi che abbiamo collaborato con le associazioni di categorie con la commissione consigliare abbiamo inaugurato questa prima giornata che non è stata accompagnata da un buon clima comunque c'era un po' di pioggia quindi gli operatori oggi hanno concluso la giornata prima dell'orario previsto speriamo che in questo sito di nuovo si possa ricreare quel mercato settimanale che Giarre merita per tradizione fino a qualche 6-7 mesi fa il sito dove era collocato questo mercato erano rimasti in quel sito erano rimasti circa 6 operatori quindi la fiera si può dire che è scomparsa la stiamo riproponendo in questa location è una location centrale si può accedere anche a piedi dal parcheggio che c'è in via teatro i parcheggi che ci sono qua in questa zona di Mitrofi alla fiera anche qua in Corso Messina ci sono alcune zone dove si può parcheggiare tranquillamente quindi crediamo molto nella rinascita del mercato del settimanale stiamo facendo di tutto per avvivare sia questa zona essendo che vicino al centro storico che possa portare dei vantaggi anche a quelle che sono le attività commerciali che si trovano nel nostro territorio una zona che per ampiezza si presta bene questo tipo di organizzazione sì secondo me si presta benissimo oltretutto questa è una zona che già ci sono le presenze di diverse attività commerciali che possono suffruire dell'utente che viene a visitare il mercato e contestualmente i clienti che vanno a visitare le attività commerciali che ci sono sul territorio possono a sua volta anche visitare quelle che sono che è la fiera del giovedì rimaniamo a giare il parcheggio Yolanda nel cuore del centro storico potrebbe essere venduto all'asta ma l'amministrazione comunale cerca soluzioni per un nuovo affidamento dopo il fallimento della precedente ditta che gestiva la struttura Dallo scorso mese di luglio in concomitanza con la sospensione del servizio delle strisce blu di parcheggio a Giarre è stato anche chiuso il parcheggio multipiano Yolanda un'area di sosta a pagamento di vitale importanza per chi posta nel centro cittadino adesso ci si interroga su quello che sarà il futuro della struttura e sull'argomento intervengono i chiarimenti delle vice sindaco Raciti ancora siamo nella fase di risoluzione del contratto perché ce l'hanno hanno ceduto diciamo dall'appalto che avevano e quindi la società vecchia adesso vediamo di formalizzare tutto come già è previsto dopodiché è una scelta politica a cui stiamo ragionando con calma perché chiaramente dobbiamo rifare la gestione delle strisce blu e dobbiamo darla dobbiamo fare una gara e quindi affidarla ad un'altra società sicuramente dobbiamo capire se inserire questo parcheggio nella gara quindi nel pacchetto delle strisce blu oppure un utilizzo direttamente da parte del comune o un'eventuale vendita all'asta al miglior offerente ma questo è una scelta politica che deve essere fatta ovviamente da tutta l'amministrazione questa è una struttura di proprietà comunale e rappresenta un'autentica risorsa anche per la collocazione in centro città e infatti per questo abbiamo ancora dei dubbi e non abbiamo scelto la destinazione finale perché siamo in pieno centro quindi è un parcheggio importante per le attività commerciali che ci sono in pieno centro e quindi dobbiamo capire bene come utilizzarlo da luglio questo parcheggio è chiuso quali i tempi individuabili per un suo utilizzo ma guardi noi stiamo cercando di accelerare la definitiva diciamo soluzione del contratto quindi abbiamo gli ultimi atti formali dopodiché procederemo alla gara e quindi prima ancora di dare la gara chiaramente avremo deciso cosa fare ma è chiaro che entro l'anno noi abbiamo già risolto tutto il problema del parcheggio e dell'estrisce blu è ipotizzabile pensare a una gestione direttamente del comune di questo parcheggio i servizi sono difficili anche perché dobbiamo avere del personale a gestire il parcheggio credo sia improbabile questo sicuramente è improbabile la cosa migliore funzionale è darlo in gestione come è stato dato precedentemente ma adesso le condizioni saranno sicuramente diverse è molto più favorevole sia all'utenza cioè ai cittadini sia anche all'amministrazione appaltati i lavori di riqualificazione dello stadio Angelo Massimino di Catania saranno installati i nuovi seggiolini il tabernone luminoso ampliata all'aria media vediamo tra la fine di ottobre e il prossimo mese di novembre inizieranno i lavori di riqualificazione dello stadio Angelo Massimino di Catania l'impianto di piazza Spedini cambierà volto a 25 anni di distanza dall'ultima ristrutturazione realizzata in occasione delle università del 1997 conclusa la gara di evidenza pubblica sul mercato elettronico è stato assegnato l'appalto con l'ultimo passaggio di una complessa procedura di aggiudicazione sarà l'impresa scs costruzione di Ili della provincia di Catania che si è giudicata l'appalto grazie ad un ribasso del 30,69% la somma complessiva ammonta 6,5 milioni di euro attinta da fondi comunitari ed è frutto della rimodulazione della programmazione del patto per Catania adesso denominato piano per lo sviluppo e la coesione la direzione politiche comunitarie sport dell'ente Etneo concorderà con l'impresa appaltatrice che gli interventi di adeguamento dell'impianto della durata di circa un anno non comporti un intralcio in occasione delle partite interne della squadra di calcio della Catania per l'esplodazione dei lavori infatti saranno utilizzate le pause più lunghe determinate dal calendario del campionato di Serie D per quest'anno i calciatori rossazzurri continueranno a calpestare l'attuale manto erboso in attesa che venga rifatto quello nuovo con soluzioni innovative nel corso della prossima stagione estiva e comunque dopo il leggerone di ritorno a partire dal mese di maggio del 2023 nei vari settori dello stadio Massimino saranno installati i moderni seggiolini colorati complessivamente saranno 20.806 oltre ad un tabellone luminoso largo 16 metri e alto 4 che andrà a sostituire quello esistente ormai vetusto e inutilizzabile sarà rigenerata anche la pista d'atletica che è una delle poche della sud Italia con 8 corsie la stessa da parecchi anni e in stato di totale abbandono saranno realizzati nuovi spogliatoi sia quelli per gli atleti che per gli arbitri con il rifacimento del sottopasso per l'accesso al campo prevista la riqualificazione dei servizi igienici di tutte le tribune dello stadio e saranno rifatti gli impianti energetici oltre alla sala stampa ai corridoi della mix zone la hall d'ingresso e altri interventi sulle recensioni a vetri del parterre e quelle delle tribune sarà dedicato ampio spazio ai cronisti e agli operatori radio tv il restyling dell'impianto catanese riguarderà anche l'attigo cibalino un campo di dimensioni ridotte su via ferrante a porti dove verrà posato il nuovo manterboso sintetico e sarà effettuata la manutenzione straordinaria e con il massimino noi ci fermiamo linea alla regia oggi Paolo Cocco e Manuela Musumeci per gli spot pubblicitari ci rivedremo subito dopo nuovamente in studio non ci sono notizie dell'ultima ora dunque chiudiamo qui questa prima edizione del giornale ma prima dei saluti finali un'occhiata al meteo per la giornata di domani il meteo in Sicilia del 23 settembre è nell'isola cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso con avvenzamenti più probabili nel corso del pomeriggio nell'area sud orientale della regione i venti saranno in regime di brezza i mari poco mossi o mossi le temperature stazionarie sia le minime che le massime qualche grado in meno nella parte centrale della regione dunque con il meteo ci salutiamo prossimo appuntamento con l'informazione su ReTV questa sera alle ore 19.45 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti grazie per essere stati con noi